oggi dipingiamo l'acqua e per questo motivo prendiamo spunto da questa foto quindi dipingiamo proprio tutta la foto tutta questa immagine cominciamo con un verde scuro quindi un verde ottenuto con terra verde un po di blu e un po di seppia e con questa colorazione con questo colore creiamo una linea possibilmente non al centro del foglio mai mettere una linea d'orizzonte una linea principale al centro del foglio sempre un po più basso o un po più alto rispetto al centro del foglio cerchiamo di fare queste linee in maniera un po irregolare una volta che si è asciugata prepariamo un verde chiaro quindi con un po di giallo un po di ocra gialla e un po di verde un po caldo un po chiaro prepariamo questo colore e sempre col pennellino fine dipingiamo una linea anche questa qui più possibilmente irregolare una linea sopra alla linea scura che abbiamo fatto prima che adesso si è asciutta quindi sopra questa linea scura abbiamo fatto prima che adesso è asciutta dipingiamo una linea di verde chiaro non solo una linea di verde chiaro la mettiamo anche sotto la linea nera la linea nera la linea scura che abbiamo fatto precedentemente perché la foto è così l'immagine è così e quindi noi stiamo cercando di rifare l'immagine non stiamo cercando di farlo in maniera iper realistica la facciamo un po e interpretazione nostra adesso prepariamo un verde molto scuro con seppia blu e verde terra perché praticamente faremo le ombre degli alberi che si trovano al di sopra di ciò che abbiamo fatto fino adesso fermo restando che quello che abbiamo fatto fino adesso è asciutto non devono rimanere separati cioè questo verde molto scuro che stiamo dando come ombra degli alberi non deve andare a a dilavarsi e a mischiarsi con ciò che abbiamo fatto prima quindi aspettiamo che si asciughi bene il lavoro che abbiamo fatto prima e poi possiamo procedere con le ombre di questi alberi cerchiamo di farle un po variegate non una cosa uniforme ecco di fuggire sempre dell'uniformità cercare sempre di fare delle variazioni quando ancora è bagnato perché è bagnato perché abbiamo messo un colore molto diluito scuro ma molto diluito quindi non si è asciugato subito quindi non si è creata una linea netta di asciugatura sopra e quindi con un pennello assicuriamoci che che sia bene che parta proprio appiccicato ciò che c'è sotto quindi lavoriamo ancora su queste ombre di questi alberi di questa boscaglia poi con un pennello di sedola martellando e punzecchiando creiamo del fogliame nel senso che questa è vero che la parte scura degli alberi però anche la parte scura è frastagliata diciamo dove è molto scura crea una macchia a tinta unita diciamo però dove va a diradarsi la parte scura dove va a schierirsi e si intravedono delle foglie del fogliame più scure che poi cadranno sopra la parte la parte più chiara quindi foglie scure sopra la parte più chiara bagniamo la parte di sotto bagniamo la parte di sotto con acqua e poi creiamo dipingiamo le ombre proiettate sull'acqua quindi se noi depositiamo il colore sopra il bagnato chiaramente sopra cioè sopra il foglio bagnato di acqua noi andiamo a depositare il colore lo stesso colore che abbiamo preparato per sopra ecco lì che si spande se l'acqua sotto non è asciugata questo colore scuro si mischierà con l'acqua spandendosi mischiandosi e creando proprio quello che si vede quando ci sono dei riflessi portati sull'acqua mettiamo anche un po' di giallo un po' di verde che non ci sono ancora sopra ma ci saranno però adesso noi dobbiamo farli dobbiamo metterli questi colori perché ci abbiamo il bagnato il foglio che è ancora bagnato e noi dobbiamo proprio fare bagnato su bagnato e lavoriamo lavoriamo un pochino picchiettando con un fazzolettino di carta un pochino lavorando con quel pennello osservando l'immagine nella fotografia dobbiamo cercare di ricreare un po' quell'effetto che vediamo nell'immagine reale della fotografia quindi col pennello aiutiamo aiutiamo il colore a camminare tra virgolette nel modo giusto sopra il foglio bagnato di acqua secondo anche la nostra interpretazione la nostra sensibilità se vediamo che è il caso di aggiungere altro colore scuro ne aggiungeremo nella parte superiore cioè appena al di sotto della riva perché è lì che ci sono le ombre più scure tante volte tante volte dobbiamo usare un pennellino fine per lavorare un pochino sui piccoli particolari anche questa è una cosa che ci vuole interveniamo 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 di tanto in tanto anche su ciò che abbiamo fatto precedentemente se vediamo che è necessario intervenire col pennello pulito e bagnato di acqua pulita cerchiamo di eliminare quelle antipatiche righe molto nette di asciugatura poi passiamo a completare la chioma degli alberi diciamo la parte superiore degli alberi sarà composta da un colore chiaro quindi giallogra giallo di cadmio e verde chiaro anche in questo caso col pennellino di setola martegliamo punzecchiamo in modo da creare la sensazione del fogliame questo colore verdino chiaro lo sovrapponiamo anche a parte alla parte centrale della parte del fogliame scuro cerchiamo quindi di mettere qua e là dei verdi un po' diversi portiamo questi riflessi gialli e verdi anche nell'acqua e piano piano cerchiamo di dare delle ombre in modo da creare una forma negli alberi quindi anche col pennellino a ventaglio punzecchiamo la parte in ombra abbiamo visto che anche il cielo è chiaro nella parte destra dell'immagine ciò vuol dire che la luce del sole viene dalla parte destra quindi la forma diciamo la forma d'uovo diciamo così dell'albero la parte sinistra sarà in ombra quindi cercheremo di dare forma a questi alberi scurrendo una delle due parti e qui diciamo dobbiamo lavorare in modo che l'effetto sia più naturale possibile cioè se vediamo che abbiamo messo delle foglioline troppo scure le schiariamo un po' poi bisognerà aspettare anche che asciughino per poter rinforzare diciamo la parte in ombra di queste foglioline nella parte alta degli alberi perché il tutto è ancora un po' umido quindi noi mettiamo dei puntini scuri per indicare le foglioline in ombra e però poi questi puntini si dilavano si diluiscono si diluiscono con con il resto dell'albero che è ancora un po' troppo umido quindi bisogna anche fermarsi e aspettare che tutto asciughi per poi riprendere il lavoro e certamente il lavoro va ripreso perché anche poi mano mano che si asciuga magari può formare delle macchie interessanti qui per esempio l'acqua ancora non è asciutta quindi con un pennellino duro quindi un pennellino di sedola tagliato in modo che le mezze sedole diventano ancora più dure bagnato di acqua possiamo creare quelle striscette tipiche dell'increspatura dell'acqua ed è ora di fare il cielo quindi abbiamo visto ripeto nella fotografia che la parte destra del cielo è più chiara e quindi noi faremo un cielo che non solo sarà scuro in alto e chiaro in basso per effetto del riflesso terrestre perché la terra non è nera è una sommatoria di colori che la fanno essere grigia piuttosto chiara quindi fa un bel riflesso riflette abbastanza bene non come uno specchio però riflette abbastanza bene la luce del sole quindi il cielo non è molto riflettente si illumina perché di notte il cielo è nero e di giorno è blu quindi si illumina però riflette cioè la luce è molto trasparente il cielo cioè la luce passa bene giusto l'atmosfera i gas tutto quello che è crea questa luce azzurra che però va a schiarirsi verso il basso la stessa cosa facciamo nell'acqua questo è il segreto dell'acqua l'acqua riflette il cielo in maniera speculare quindi la parte bassa del cielo la parte bassa dell'acqua riflette la parte alta del cielo quindi il cielo è scuro in alto è chiaro in basso l'acqua sarà scura in basso e mano a mano che va verso il centro va a schiarire e in basso il cielo attra l'acqua di tutto la parte in basso il cielo è versato il cielo è lo il cielo